Sesta corsa dall'Arcoveggio, la penultima, un'altra prova per i Pulebri. Questa volta non vincitori di 3.000 euro in carriera, sono in 10 al via favoritissimo Diluvio con Alessandro Gocciadoro. Uno da Madicorte, due da Ebba dell'Olmo, tre Dottor Bride, quattro Diluvio, cinque Durban dei Greppi, sei Dubai Pax. In seconda fila sette Dobardaghi, otto da Cota dei Greppi, nove Dantuan, dieci Diletta, trio. L'allineamento si va a completare lungo la curva di sinistra con il sei di Dubai Pax che per il momento non tocca l'ala all'estremità esterna. Autostart che entra in dirittura e si prepara a lasciarli con problemi per Dantuan. Veloce Dama di Corte con a largo Deba dell'Olmo e in mezzo alla pista Diluvio. In tre a giocarsi la partenza con Dama di Corte che imbocca la prima curva in vantaggio nei confronti di Deba dell'Olmo. All'esterno è Diluvio lungo la corda, è partito bene da Cota dei Greppi dalla seconda fila. Quindi ancora il sette di Dobardaghi. In pariglia esterna alle spalle di Diluvio c'è Dottor Breed. 15 per il lancio e Dama di Corte si staglia all'avanguardia in maniera anche abbastanza netta nei confronti di Deba dell'Olmo da Cota dei Greppi a largo Diluvio. 34 per i primi 400 metri con Maurizio Cheli che cerca di riprendere in mano ora la propria allieva che era anche un po' ardente nella prima fase di gara 46 e 3 mentre galoppa da Cota dei Greppi che lascia così spazio alla corda in terza posizione. Si può sistemare lì Dottor Breed. Davanti alle tribune insiste a largo Diluvio che cerca di andare a prendere contatto con la testa della corsa 1-1-1 per la metà gara con sempre sbaglia intanto Deba dell'Olmo. Diluvio si sistema in seconda posizione alle spalle di Dama di Corte che sta andando via tutta birra 1-16-2 il primo chilometro. Dama di Corte in vantaggio Diluvio in seconda posizione Dottor Breed in terza ma molto più indietro è anche richiesto. È un match a due per la vittoria con Dama di Corte che controlla Diluvio che la fila. 15-2 anche la dritta di là. Dama di Corte che è in vantaggio Diluvio sempre in seconda posizione mentre si infiamma la lotta per la terza moneta con Dottor Breed che è sempre in vantaggio viene in mezzo alla pista Dubai Pax a 200 dalla conclusione. Dama di Corte in vantaggio. Diluvio nella sua scia la retta d'arrivo con Dama di Corte che cerca la difesa. Diluvio che sceglie l'open stretch. Dama di Corte in vantaggio. Diluvio che scatta di dentro. Dama che ancora qualcosa ma arriva Diluvio che nei pressi del palo passa e vince. Diluvio che trova la vittoria. Al terzo posto è Dobardaghi che scatta bene ma Dama di Corte gliel'ha fatta sudare. 32 la chiusano. 15-7 il raguaglio cronometrico per il successo di Diluvio. Alessandro Gocciadoro. Guida e training per la Pink and Black. Figlio di Adrian Chip e l'Ov on the rocks che è stato saggiamente interpretato da Alessandro Gocciadoro perché questa Dama di Corte non scherzava affatto la lieva di Maurizio Cheli e Lamberto Barbieri ha corso alla grandissima. Però Diluvio nel finale ha fatto valere un qualcosino in più. Primo successo in carriera per Diluvio dopo il secondo posto del debutto. Al terzo Dobardaghi che scatta molto bene nel finale. Grazie a tutti.